Ciao a tutti! Da quando sono entrata nel mondo del web, nel lontano 2006, ho registrato centinaia, anzi migliaia di videoricette. Come sapete, nel 2015 è nato il mio progetto, soniaperonaci.it. Da allora ho registrato più di 450 videoricette, 200 reel, innumerevoli stories e 300 puntate televisive. Pensate che solo per la televisione ho preparato oltre 600 golosissime ricette. Era arrivato il momento di mettere in ordine tutto quello che ho realizzato negli ultimi anni. Perciò ho aperto questo canale YouTube. Qui sto trasferendo man mano tutte le mie ricette, controllandole con cura una ad una e dando loro una nuova armonia. Se anche tu vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità della mia cucina, allora ti consiglio di iscriverti. Come? Cliccando il link che ti ho lasciato nella descrizione. Torna a trovarmi per cucinare insieme!